Cene, comune virtuoso, in questo periodo diciamo così abbastanza critico, quello che spaventa è l'applicazione dell'Imu. In Consiglio Comunale siete arrivati a una decisione, le tariffe saranno minime per tutelare i vostri cittadini e soprattutto continuerete a non applicare l'addizionale IRPEF, una cosa sicuramente non indifferente. Sì, diciamo che la volontà è stata non pescare le tasche dei cittadini, l'addizionale IRPEF non è mai stata applicata, ce ne abbiamo continuato in quella direzione. Sul Limo abbiamo applicato la tariffa minima per la prima casa che è 4 di valore e poco superiore al minimo che 8 per la seconda e le addettività commerciali. Non abbiamo pescato nei taschi dei cittadini nemmeno sull'aumento i tariffari in quanto i rifiuti su cui abbiamo comunque, verso i quali abbiamo implementato il servizio perché facciamo una raccolta porta a porta totale totalmente differenziata, mentre prima non era così, sono spariti i cassonetti. Ha implicato un mancato aumento della tariffa per i cittadini e così anche per il resto. Anche sulla casa di posa abbiamo adeguato solo ISTAT, mantenendo un tariffario tra i più bassi in provincia di Bergamo per le famiglie, per le rette. E quindi più di questo noi non potevamo fare. Adesso ci si sta sbizzarrendo in 3.000 iniziative, c'è chi non applica questo, non applica quell'altro. Io credo che il problema non lo vedremo oggi, ma lo vedremo a distanza di un anno, un anno e mezzo quando tutti i comuni rientranno nel spatto di stabilità. Lì tutti dovremo forse rivedere le tariffe. Auguriamoci che non sia così. Una tutela nei confronti dei cittadini, come fa il Comune di Cena a garantire ciò? Lo fa attraverso, secondo me, una visione oculata dei bilanci, secondo me attraverso investimenti che non sono stati dissennati nel tempo. La continuità politica, secondo me, degli ultimi 20 anni ha garantito questo. Non c'è stata discontinuità, ma una visione globale che è stata premiata anche a livello politico dal voto. E questo sicuramente è stato un dato veritiero e non smentito. Questo va comunque al di là della connotazione di partito. Secondo me è legata, io credo, molto alle persone. Cioè alla persona mia in questo momento, ma soprattutto anche a chi mi ha preceduto. Che la gente abbia identificato nella gestione delle precedenti amministrazioni, quella attuale, abbia visto uomini e donne in grado di gestire la cosa pubblica. Una lungimiranza che vi ha permesso nel bilancio di inserire anche altre opere pubbliche, completamento del ponte entro la fine dell'anno e un occhio anche alla cultura, alla biblioteca. Sì, esatto. Questa è un po', diciamo, una parte del mio lavoro. I miei predecessori hanno lavorato tantissimo a livello infrastrutturale. Io sto completando la loro opera con il discorso del ponte, che darà un po' una, credo, una facciata un po' diversa a cene. Speriamo gradevole per tutti e funzionale. E poi abbiamo adeguato, adegueremo nell'arco di qualche mese, la biblioteca, rivisitando tutti gli interni, riarredandola, rendendola adatta al tempo d'oggi, quindi sviluppando una biblioteca, delle postazioni internet adeguate. E credo che, malgrado chi ci ha preceduto, abbia fatto già all'epoca un lavoro buono, il lavoro dopo 30 anni vada semplicemente rinterpretato.